Salve a tutti amici di Campania nel pallone, siamo alla vigilia di Napoli Udinese, gara valevole per la 36esima giornata di Serie A che si disputerà domani allo stadio Diego Armando Maradona. Il fischio d'inizio alle ore 20.45. Azzurri che dunque soltanto tre giorni dopo l'importante vittoria di La Spezia che gli ha permesso di riportarsi in zona Champions si apprestano ad affrontare una partita che può consistere in un'altra tappa di fondamentale importanza per il raggiungimento dell'obiettivo. Ieri sera nel posticipo della 35esima giornata di campionato il Milan ha sbancato l'Allianz Stadium imponendosi sulla Juventus con un sonoro 0-3 e dopo il risultato finale della sfida tra le due dirette concorrenti il Napoli si è ritrovato quarto in classifica a quota 70 punti, ha un punto di vantaggio sulla Juventus e ha due lunghezze di ritardo da Atalanta e Milan. Dunque le due formazioni lombardi hanno compiuto un passo importante verso la massima competizione europea ed entrambe hanno buone possibilità di arrivare allo scontro diretto tra di loro dell'ultima giornata già aritmeticamente in Champions. Dunque gli azzurri sono chiamati a mantenere il vantaggio sulla Juventus. Uomini di Pirlo che in queste ultime giornate di campionato hanno un calendario un po' più complicato ma in ogni caso il Napoli è padrone del proprio destino e ha tutte le carte in regola per avere la meglio sui rivali bianconeri. Al picco la squadra si è confermata in ottima salute, in ottimo status psicofisico è stata una gara in cui gli uomini di Gattuso sono riusciti al meglio a far prevalere la propria netta superiorità tecnica dominando in lungo e in largo e ciò gli uomini di Gattuso dovranno essere bravi a farlo anche nelle ultime tre finali contro Udinese, Fiorentina e Verona. Bisognerà mantenere alta la concentrazione, avere cinismo ed evitare qualsiasi calo di tensione perché bisogna sempre considerare la possibilità che subentrino degli intralci come spesso accade nei testa a testa con la Juventus i ben noti intralci che subentrano nei testa a testa con i bianconeri che purtroppo come ben sappiamo il Napoli ha più volte provato sulla propria pelle e riguardo all'undici titolare con cui il Napoli scenderà in campo Gattuso dovrebbe attuare due cambi rispetto alla formazione schierata contro lo Spezia tra i pali e ballottaggio tra Merette e Dospina il portiere colombiano ha recuperato dall'infortunio ma il tecnico calabrese potrebbe preferire non rischiarlo ancora e in base a quelle che sono le ultime indiscrezioni favorito per un posto da titolare resta l'estremo difensore ex Spal riguardo alla difesa al centro della retroguardia ha obbligata la conferma della coppia Manolas-Rachmani in virtù dell'indisponibilità di Koulibaly e a causa anche di quella di Maximovic ricordiamo che Koulibaly è assente per infortunio mentre Maximovic per positività al Covid-19 poi a completare il reparto difensivo ci sarà Di Lorenzo sulla fascia destra con probabilmente Mario Rui ad occupare la corsia opposta questa volta è il terzino portoghese e potrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Else Di Usai a centrocampo si va verso la conferma del duo di mediana composto da Fabian Ruiz e Demme mentre in attacco Mertens non è al meglio ma per fortuna la sua distorsione alla caviglia al picco è stata soltanto lieve l'entità dell'infortunio è stata molto meno grave rispetto all'infortunio precedente sempre alla caviglia rimediato a San Siro nel corso di Inter Napoli lo scorso dicembre quest'oggi il numero 14 azzurro ha svolto regolarmente la seduta di allenamento in gruppo e dunque presumibilmente verrà inserito nella lista dei convocati ma a guidare il reparto offensivo sarà certamente Victor Rosyman che sta attraversando un periodo di forma davvero straordinario alla spezia altra prestazione sontuosa fornita dal numero 9 azzurro che sta esaltando al meglio quelle che sono le sue principali doti ovvero la grande velocità e la forza fisica e i meriti vanno dati anche ai compagni che comunque lo stanno mettendo nelle giuste condizioni di poter esaltare al meglio le sue caratteristiche e di conferire profondità alla squadra e alle spalle della punta poi dovrebbe tornare titolare Irving Lozzano il messicano dovrebbe ritrovare una maglia da titolare subentrando a Matteo Politano e andando a comporre il trio alle spalle della punta sulla tre quarti insieme a Zielinski ed Insigne e dunque detto questo è tutto auguro un buon proseguimento di serata a tutti dandovi appuntamento ai prossimi aggiornamenti qui su Campania nel Pallone